Si chiama Collezionisti di nuvole ed è l'ultimo libro di Sergio Tardetti per Bertoni, editore. Professore in pensione, scrittore per passione, l'autore ha presentato il suo ultimo lavoro nella sala ex refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio. Dopo l'esperienza dialettale del volume La Mi Perugia, Tardetti si è cimentato nella stesura di una nuova raccolta poetica che vuole essere omaggio proprio alla poesia e ai poeti. Alla presentazione, oltre all'autore perugino ma eugubino d'adozione, sono intervenuti Claudia Fofi, il curatore del libro Bruno Morovic, l'assessore alla cultura del comune di Gubbio Giovanna Uccellani e gli attori della compagnia Teatro della Fama che hanno letto alcuni passi della raccolta. I collezionisti di nuvole chi sono? Sono i poeti che stanno a guardare le nuvole che passano in cielo e le traducono in versi in modo da rendere la società un pochino meno difficile, meno dura rispetto a quella che stiamo vivendo in questo momento. I poeti ce ne vorrebbero molti di più, devo essere sincero. I collezionisti di nuvole sicuramente è un elogio alla poesia e ai poeti in particolare. È un lavoro molto introspettivo quello fatto dal poeta che naturalmente guarda in maniera non pessimistica ma con un certo pensiero, con un certo riguardo agli accadimenti del mondo e soprattutto fa un lavoro introspettivo nei confronti della sua opera e della sua persona. I collezionisti di nuvole naturalmente è dedicato ai poeti. I poeti sono quelli che guardano sempre verso l'alto, verso il cielo e naturalmente colgono tutte quelle che sono le atmosfere che cambiano nel mondo. Le nuvole infatti possiamo tranquillamente equipararle a quelli che sono i sentimenti, le emozioni di chi scrive poesia. Sono mutevoli, sono volatili, sono colme di riflessioni, colme di pensieri e credo che Sergio in questa sua opera sia riuscito a rappresentare perfettivamente quello che è il modo di essere del poeta e dell'essere se stesso.